In campagna i positivi al covid-19 sono 3.068 con 108 nuovi casi su 1.445 tamponi esaminati, 24.584 dall'inizio dell'epidemia, ancora un numero record di esami in un giorno solo e scende la percentuale di positivi rispetto alla quantità di analisi effettuate. Ieri nuovo record di esiti negativi 1.337 persone risultate non infette. In provincia di Salerno i tamponi effettuati sono 265, i positivi sono 29, negativi 236, 5 a Nocera Inferiore, 4 a Caggiano, 4 a Cava dei Tirreni, 3 ad Agropoli, 2 a Scafati, 2 ad Angri, 1 a Casalvelino, 1 a San Valentino Torio, 1 a San Marzano, 1 a Cetara, 1 a Giffoni, Valle Piana, come pure per Sant'Egidio del Monte Albino, Ponte Cagnano, Faiano, Fisciano e Vibonati. Intanto il governatore De Luca ha firmato l'ordinanza numero 28 del 5 aprile 2020, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. L'ordinanza stabilisce l'istituzione di una nuova zona rossa in campagna, nel comune di Lauro, in provincia di Avellino.